Io da organizzatore vi dico che sono chiusi i seggi campione, quindi finirà 57-58% per Pupillo e il restante è addamico, quindi Pupillo è il nuovo, continua ad essere il sindaco di Lanciano. È stato questo il suo ultimo intervento in tv, ma nessuno di noi poteva immaginarlo. Marco Di Rocco, 51 anni, segretario provinciale FIOM CGL per 8 anni e poi per altri 4 segretario FIOM nel Chietino Ortonese, ha messo fine ai suoi giorni lasciandosi investire dal Frecciabianca Taranto-Milano alla stazione di Pescara. Il macchinista ha visto l'uomo fermo sui binari ma non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Di Rocco, sempre attivo sia nel sindacato che in politica, è stato organizzatore degli eventi per la campagna elettorale di Mario Pupillo nelle amministrative di giugno. E proprio nel corso della lunga diretta a tv su Telemax aveva fatto le previsioni della conferma di Pupillo sindaco. Sgomento in città per la perdita prematura di una persona definita da tutti buona. Non meritava di finire così e il commento rilasciato al TG Max da Domenico Bologna, segretario FIOM CISL. Marco, dice Bologna, era una brava persona, era un buono. Il lacrime al telefono riesce solo a confermare la triste notizia all'attuale segretario Davide Labbrozzi mentre si trova alla stazione di Pescara. Era un pezzo di pane, riesce appena a commentare Nicola Manzi, segretario della UILM. Sconvolto anche il sindaco Pupillo. Ho ancora in mente, dice il suo abbraccio fortissimo, la notte della vittoria al ballottaggio. Non si conoscono le motivazioni del gesto, forse problemi personali o economici. Al sindacato non lavorava più da mesi. L'ultima volta gli amici l'hanno visto a Lanciano appena qualche giorno fa. Ciao Leda!